Nel 2019 si tornerà a votare per le elezioni regionali in Abruzzo. Il sindaco di San Giovanni e Tietino, Luciano Marinucci, è pronto a candidarsi? No, guardi, io mi sono già candidato per gestire, per amministrare il mio comune nel 2011. Ho avuto una riconferma bulgara. Credo che il mio compito sia quello di portare questo comune in acque tranquille, quindi tenendo sotto controllo il bilancio, quindi le entrate correnti e le spese correnti dell'ente. E inoltre ho anche la soddisfazione, visto che è un mio risultato, anzi preciso, mio e della mia squadra, di dover spendere 5 milioni di euro, che sono soldi che vengono fuori da compensazioni ambientali di Terna e da un accordo di programma fatto con Ipercop per l'ambiente del centro commerciale, che spenderemo tutti per rendere meglio questo paese. 5 milioni sono tanti, li voglio spendere io, non li voglio far spendere a un altro sindaco. In un futuro però prossimo c'è la voglia, la volontà di misurarsi in altre realtà politiche e appunto con una eventuale candidatura alle regionali? Beh, prima si mantengono gli impegni con i cittadini e poi magari si mette di nuovo a disposizione la propria esperienza per altri obiettivi. Sicuramente io sono stato addestrato a fare questo da sempre nella vita pubblica e nella vita privata. Quindi se sarò chiamato senza dover recare nessun documento o danno alla mia collettività, lo farò.